Uomini e donne, Alex Adinolfi, ecco la verità sul nuovo tronista, ma non voleva fare il dentista, la frase dell'ex corteggiatore di Rosa Perrotta è diventata velocemente virale, scatenando la reazione dei followers e dei fan del talk show, quest'ultimi hanno accusato il giovane napoletano di essere geloso di Mattia e di voler stare lui al posto del compaesano, in virtù di ciò, Alex ha prontamente risposto alle critiche pubblicando un video su Instagram Stories, a tutti gli ignoranti che mi scrivono in privato, che sto rosicando, volevo dire che, ho espresso solo un mio parere su Mattia, in quanto mi sono sentito chiamato in causa, in puntata, Mattia mi diceva sempre che io ero lì per la visibilità, e che lui andava a lavorare e faceva il dentista, per questo la mia domanda è sorta spontanea e mi sono chiesto ma non faceva il dentista, concludo dicendo che sono molto felice in questo momento, perché sto conoscendo una persona, e non sono per nulla interessato al trono, differentemente da come pensano gli altri, anzi, auguro il meglio a Mattia, questa è la verità di Alex su Mattia, e voi, cosa ne pensate?